Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 25 febbraio, benvenuti a Mattino Insieme. C'è preoccupazione in Trentino per l'aumento dei contagi e per l'aumento dell'indice RT, mentre, come sapete, in Alto Adige è stato prolungato il lockdown. Per parlare degli argomenti di maggiore attualità, come tutti i giovedì, abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno, buongiorno Marco. Come sempre cercheremo di capire meglio e di inoltrarci proprio nelle pagine del settimanale diocesano, così come ha annunciato prima anche il rassegna stampa il nostro Alessio Kaiserman. Ecco, voi avete titolato oggi Ripartiamo dai Giovani e avete fatto proprio questo viaggio un po' alla scoperta dei progetti degli oratori e delle parrocchie con uno sguardo ai più giovani, con uno sguardo al futuro. Sì, in più occasioni anche il nostro Arcivescovo ha segnalato come i giovani siano fra i più colpiti dalla pandemia, siano i più poveri da questo punto di vista. E evidentemente questa situazione di un logorio determinato anche dallo spuntare di nuove varianti e dal protrarsi del lockdown espone questa condizione giovanile a delle ripercussioni che potranno essere anche di lungo periodo. E proprio a partire da questa considerazione alla domanda che viene da molti giovani di poter tornare a frequentarsi in presenza, poter mobilitarsi anche con iniziative di aiuto agli altri, insomma di vivere la vita in pienezza, abbiamo, ci siamo proposti di fare una ricognizione almeno negli ambienti ecclesiali e siamo partiti proprio dall'associazione Noi Trento che coordina quasi un centinaio di oratori qui in Trentino cercando di cogliere quali sono le novità in questo campo. Ad esempio risulta che ci sia un'operazione ascolto proprio nella fascia dei giovani tra i 20 e i 30 anni per cercare di cogliere le esigenze ma anche le proposte che diano veramente spazio ai giovani e non li facciano sentire in stand by più di altre realtà. E proprio ai giovani e non solo, è dedicato proprio l'editoriale di questa mattina che firmi tu Diego alla generazione Covid, come la possiamo purtroppo definire, suo malgrado. Certo, rischia di essere un po' un'etichetta ma non c'è dubbio che anche la didattica a distanza anche se viene praticata in percentuali ridotte, ha veramente privato i nostri ragazzi di molte ore vita perché non è solo l'apprendimento ma è l'andare a scuola, uscire, cambiare ambiente, dialogare, relazionarsi con persone adulte rispetto ai propri familiari. Da questo punto di vista noi diciamo di essere anche piuttosto contrario ad un eventuale prolungamento delle scuole fino a fine giugno. Bisogna fare di più, non è soltanto la next generation un problema di risorse, di fondi, è una determinazione del mondo adulto a cogliere questo disagio che abbiamo visto, sappiamo dalle relazioni anche dei riflessi sul piano psichico, coglierlo e trovare delle risposte che a questo punto non possono più attendere perché qualche mese fa potevamo dire a pandemia finita, ora rischiamo di avere una pandemia endemica e i nostri giovani davvero dicono non ne possiamo più, noi siamo fatti per così dire, per vivere all'aperto, per avere relazioni che non siano soltanto virtuali e credo che sia un problema del nostro tempo al quale come settimanale di Ocesano ci siamo impegnati a dare molta attenzione. Ecco anche tu Diego, ovviamente come padre hai dei figli anche molto giovani, uno è stato anche nostro ospite qui a Mattino Insieme, che indicazioni dai e tu appunto che segnali cogli appunto nei ragazzi giovani? Sì, evidentemente quanto si scrive, quanto si dice poi è molto influenzato anche da quanto si vive nelle proprie case e sì, si coglie il logorio, ecco perché mentre insomma in primavera, anche in autunno dopo quella sorta di pausa forse un po' troppo allegra che abbiamo vissuto in estate, ora c'è il, non dico la rassegnazione, ma la stanchezza, la difficoltà, soprattutto quel timore che deriva dal constatare che questa realtà potrebbe durare ancora molto a lungo e quindi il bisogno di rivedere gli amici ma in modo pieno, di frequentare altre realtà, penso anche alla dimensione dello sport che per tanti giovani è vitale insomma e al di là dell'aspetto agonistico c'è proprio l'aspetto della socializzazione, in molti casi alcune attività completamente sospese hanno provocato insomma delle problematiche non solo di tipo fisico ma anche psicofisico. E parliamo anche di università perché ve ne occupate voi, anche voi questa mattina su Vita Trentina, lo sappiamo l'altra sera è stato eletto il nuovo rettore dell'Università di Trento e anche voi avete avuto modo insomma di porgli mi pare qualche domanda. Sì, è un po' una consuetudine, i lettori giustamente vogliono sapere quali sono le idee che guideranno l'università nei prossimi anni, la novità è quella di un rettore cresciuto in casa si potrebbe dire da studente a rettore come abbiamo titolato, è il primo a essersi laureato nel nostro Ateneo e ci siamo appunto fatti spiegare su quali direttrici intende muoversi. Ecco, su che direttrici in particolare? Ma De Floriano ha riassunto in due parole, quella dell'autonomia, quindi un dare sostanza questa specificità dell'Ateneo Trentino che forse negli ultimi anni si è un pochino persa e l'altra è quella del dialogo con il territorio e con tutte le altre realtà della ricerca, della didattica, il mondo della scuola e evidentemente l'università non può essere un mondo a parte e più sono le ricadute anche sulla realtà produttiva, sulla vita sociale e anche sulla crescita culturale della nostra terra, meglio è. La classifica è buona a livello nazionale ma ci può sempre fare meglio. Nella tarda serata di sabato è arrivata la notizia del Vescovo Lauro che è in isolamento perché appunto ha contratto il Covid-19 anche di questo parlato, anche se il Vescovo dobbiamo rassicurare tutti, insomma è decisamente in buone condizioni. Sì, c'è un affaticamento, qualche linea di febbre, però speriamo appunto che il Vescovo possa completare il contagio in forma leggera. ha raccolto molti messaggi, li ha rilanciati dicendo di pregare per chi si trova in condizioni peggiori. Certamente è un'esperienza che arricchirà, come sempre avviene ciascuno di noi e sicuramente ne trarrà anche qualche indicazione nuova per il suo Magistero che comunque è stato molto molto attento, molto presente a cogliere dalla gente le ripercussioni insomma della pandemia anche sul piano spirituale. Non possiamo chiaramente non parlare di vaccini, ve ne occupate in prima pagina e poi nelle pagine interne sul settimanale di Ocesano di questa settimana mentre, lo dicevo prima, in apertura c'è molta preoccupazione per l'aumento dei contagi in Trentino. Sì, noi questa settimana ci soffermiamo sul tema delle licenze del cosiddetto vaccino aperto un tema peraltro molto molto presente anche sulle pagine dei giornali di oggi abbiamo scoperto che c'è un docente dell'Università di Trento il professor Mauro Caso che abbiamo intervistato che è appunto tra i capofila nel richiedere a livello nazionale un intervento normativo degli strumenti giuridici a suo avviso da esperto possibili per cercare appunto di arrivare più possibile a far prevalere il principio della tutela della salute pubblica rispetto a quelle che sono le norme restrittive sulle proprietà e sulle licenze che a me comportano spesso il fatto che poi soltanto i paesi più ricchi e all'interno di questi chi ha maggiori possibilità adottarsi dei vaccini più sicuri è una questione più volte richiamata anche dal Papa è evidente che anche la ricerca in questo campo è molto importante per arrivare ad avere appunto un vaccino libero Questa settimana siamo stati ovviamente tutti turbati dal femminicidio di cortesano e anche nelle chiese trentine ci sarà un'iniziativa molto particolare Sì, è una ripresa di un'iniziativa quella della sedia vuota che era partita proprio un anno fa e che prevede appunto di lasciare nelle chiese un posto vuoto a ricordo delle donne vittime della violenza e sono otto, lo ricordiamo, negli ultimi otto anni e il femminicidio di cortesano ecco, avrà un riferimento anche domenica nelle chiese proposta una preghiera specifica per Deborah e per le altre vittime e anche la diocesi si è unita attraverso il delegato Vescovilla e Don Cristiano Bettega a quella sorta di lettera appello che un gruppo di uomini ha rivolto alla società trentina perché proprio da parte di noi maschi ci sia una presa di assunzione, di responsabilità sul piano culturale ma non solo, anche con gesti concreti quindi questa sedia rossa che apparirà nelle chiese trentine darà visibilità a questa realtà purtroppo tragica anche nel nostro trentino e proprio a quell'appello degli uomini contro i femminicidi e contro la violenza ci occuperemo abbondantemente poi nel corso della puntata di questa mattina torniamo alla prima pagina di Vita Trentina per parlare di sport perché c'è stato un successo passatemi il termine mondiale tra virgolette di Luca De Aliprandini che ha tenuto veramente alto diciamo così l'onore del trentino ai mondiali di Cortina sì, ha salvato anche i mondiali dei colori azzurri un'edizione appunto veneta che però rischiava di finire piuttosto male per la nostra squadra di sciatori e l'atleta clesiano anche se vive a Riva del Garda ha dimostrato finalmente le sue grandi doti e ha ottenuto questo argento che anche in termini storici si presenta come un risultato di assoluto rilievo e nell'intervista De Aliprandini conferma anche la sua tempra la sua grinta la sua fame di ulteriori successi andiamo a Rovereto perché nella cronaca dalle valli vi occupate un po' proprio del Rovereto che verrà con il possibile interramento della ferrovia sì è un filone che abbiamo inaugurato con la copertina della settimana scorsa questa realtà delle città senza auto insomma della transizione ecologica e Rovereto ha visto la Giunta incontrare la provincia per mettere a punto i progetti realizzabili a breve anche sulla base dei contributi del Recovery Fund e abbiamo parlato con l'assessore competente e raccontiamo ai nostri lettori appunto i progetti più a breve termine compreso appunto l'interramento della ferrovia e soprattutto un legame più stretto tra la città e la periferia questa può essere veramente la sfida tra l'altro la periferia di Rovereto sia verso gli Arda che a nord o a est è particolarmente ricca anche di richiami naturalistici anche storici e quindi non c'è dubbio che la la trasformazione urbanistica potrebbe insomma arricchire anche sul piano del richiamo turistico la città della Quercia sempre dalle pagine dalle valli c'è appunto un articolo che mi ha particolarmente incuriosito ed è quello sugli asini antibullo di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa messa in campo da una realtà dell'Alto Garda che sfrutta per così dire la capacità insomma terapeutica dell'allevamento degli asini per ragazzi che siano in difficoltà con il bullismo sia in generale che abbiano problemi di aggressività o che magari l'abbiano anche subita e l'esperienza la letteratura ha dimostrato ormai come questi animali proprio per le loro caratteristiche siano terapeutici nel far scaricare l'aggressività e quindi dei progetti mirati per ragazzi che così in modo molto naturale molto informale possono migliorare la loro situazione psicologica possono sperimentare attraverso fratello asino una salute e un benessere magari da riconquistare veramente molto molto interessante questo spunto io ringrazio molto Diego Andreatta direttore di Vita Trentina non ho dimenticato nulla stamattina no come sempre no anche se mi auguro insomma che i nostri lettori poi troveranno anche altri spunti sulle 36 pagine del nostro settimanale